Per ricevere ricompense in ultima tramite il prodotto DeFiU, devi trasferire i token split sul tuo portafoglio nell'app Smart Wallet. Non dimenticare di attivare il tuo portafoglio per effettuare transazioni con i token split. Per attivarlo, semplicemente trasferisci uno smart sul tuo portafoglio. Dunque, per prelevare i token split, apri la dashboard sul sito di DeFiU in alto a sinistra vedrai il saldo split disponibile e il pulsante payout. Clicca su questo pulsante. Tieni presente che per prelevare i token sarà necessario attivare l'autenticazione a due fattori. Si aprirà una finestra in cui dovrai incollare l'indirizzo sul tuo portafoglio split. L'indirizzo può essere copiato in Smart Wallet. Incolla l'indirizzo copiato, specifica l'importo di split da prelevare e clicca sul pulsante Transfer. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire il codice di autenticazione a due fattori. Apri l'app Google Authenticator e inserisci il codice mostrato nell'app nel campo corrispondente. Se hai fatto tutto correttamente vedrai un messaggio che indica che è stata creata una richiesta di prelievo dei token. Presto i token verranno trasferiti sul portafoglio che hai specificato. Puoi trovare la cronologia dei payout nella sezione payout history. Per qualsiasi domanda contatta il servizio di assistenza e saremo lieti di aiutarti. Ti auguriamo un buon lavoro!